Ciao a tutti, sono Ronny, i raponi poverini. Allora, preciso e assoluto che io sono etero, mi piacciono le donne, tutto quanto. Però mi rendo conto anche di un'altra cosa. Altro che i famosissimi California Dream Man. Guardate, i fichi, guarda che fichi, ma chi è più fichi, questi o i California Dream Man?